Da ultimo nella stesura di normative per la pulizione dei crimini internazionali. Abbiamo lavorato bene stamattina. E sono molto orgoglioso che i ministri della giustizia siano tra i primi ad attuare in un modo molto concreto il trattato del Quirinale. Il trattato prevede, lo sapete, il rafforzamento tra i nostri paesi. E questa mattina specialmente tra le nostri giustizia. Abbiamo examinato insieme il numero. Abbiamo una giustizia più rapida, più proteggente, più efficace. E abbiamo messo in modo operativo. Abbiamo evoccato la grande criminalità e la forma di lutter più efficace contro la grande criminalità. E io devo dire che la Francia ha dei lezioni a ricevere di l'Italia. A ragione, malvamente, del fatto che, dopo dei tempi immemoriai, l'Italia ha subito la grande criminalità. Abbiamo s'è, d'ailleurs, già inspirato di mesure concrete che avete in place. Mesure, notamment, su la confiscazione dei biens saisi. E poi, noi abbiamo lavorato anche su l'equipe autour del magistrato. Tu e, io ho, di rinforzare l'equipe autour del magistrato, là ancora, per rinforzare il lavoro dei magistrati e per rendere una giustizia più rapida e più efficace. E, finalmente, abbiamo lavorato su la luttura contro l'impunità dei crimes che sono, malvamente, commis quotidianamente in Ukraine. Grazie.